salve salve a tutti siamo qui nella posta nella postazione casalinga di questi appuntamenti con la sdl tv eccetera eccetera e ciao a tutti quelli che si collegano tra poco tra poco dovremo metterci in contatto con col capitano con francesco totti col pupone chiamatelo come volete c'ha mille nomi ma fondamentalmente la definizione è campione e con lui chiacchiereremo un pochettino in leggerezza se vorrete anche perché questo famo di pallone di sport di famiglia eccetera eccetera quindi per tutti i tifosi giallorossi e per gli amanti del calcio e dello sport in genere e della romanità dovrebbe apparire tra poco anche francesco totti col quale inizieremo a chiacchierare per una mezz'oretta ok intanto vedo che qui ci stanno cose che arrivano sotto persone che cominciano a collegarsi tarquini debora faravelli alice alice lemme ciao alice lemme e arriveranno piano piano che ne so io intanto siamo qua siamo qua a scontare questi ultimi giorni domani ironia della sorte con tutti quelli che stanno a casa e la festa del lavoro a poter lavorare però intanto facciamo festa in attesa di lavorare veniti veniti fer italia abbiato un video a che ne so io pensavo che era una cosa non so come funziona qui intanto appaiono messaggi una richiesta di partecipazione ramallir non lo so chi sia stiamo aspettando anche altri collegamenti peraltro domani se non sbaglio il professor roide vita e il dottor pia francesco parra insieme a al buon parpiglia ragioneranno su questi nuovi decreti che sono stati emessi per questa ipotetica apertura il 4 maggio della fase 2 e ragionerete insieme a voi anche il faina hai capito ah no non lo sapevo che noi ci siamo no da oggi aspettate che io devo leggere grazie 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 che manca dove sta francesco ma lo troviamo un pochettino ma c'era la richiesta comunque grazie grazie sotto quale voce ecco lì l'avrò l'avrò vista pare scompare pare scompare appare scompare la france io tu sei un gran calciatore ma non fa le finte adesso appunto l'avevo visto francesco tot poi ci ha nascosto il pallone eccolo la ma sarà lui spero che si ma se mi compare uno della lazio vediamo un pochettino eccolo ciao francesco mi facevi finte no perché non ti mandavo la richiesta però se vede che non c'era la connessione buona non mi accettavi mai ma adesso si vede benissimo guarda ma tutte le dirette che ho fatto minimo 3 4 volte entro riesco entro riesco hai capito la connessione mia una vecchia abitudine da mascalzone sono i giochetti che facciamo da infanzi da ragazzini esatto esatto allora per tutti quelli che si fossero collegati che si stanno per collegare e noi che presento francesco totti mi sembra morito però ti vedo male paolo tu mi vedi male cioè ti vedo solo la bocca ecco adesso vedo male ecco cercavo di proteggere il naso che la parte tra tra tutte e due famo a botte esatto io io c'ho l'astuccio del tuo però eh eccoci qua allora dicevo è inutile che presento bene grazie al cielo è inutile che presento francesco perché chi lo conoscesse vuol dire che ha appena sbarcato da un altro pianeta dove ha vissuto fino adesso capione di tutto tutto col quale prima di parlare del calcio che è la cosa che ci manca tantissimo un paio di episodi un paio di episodi non so se te li ricordi tanti tanti anni fa quando francesco era ancora un bimbo e io quasi però diciamo che erano più giovani ecco erano più giovani francesco è venuto a casa nostra a giocare a biliardo allora io do un consiglio a tutti quelli che vogliono giocare a biliardo con francesco non lo fare memoria eh non lo fare perché non vi divertite nel senso che voi sbocciate poi tocca a lui e poi potete voler andare a piancaffè tanto si fa tutte le pallette mi ricordo che la sera preoccupante la ricordi sì e bei tempi eh bei tempi sì bei tempi sì mi ricordo anche quando venisti e fu molto carina quella volta che ho incastrato peter pan e c'era un tal ricotta ricordi ragazzino mamma mia ho visto lo ripeto ogni tanto quel servizio io faccio vedere i bambini eh pensavo che avessi rincontrato lui e mi ricordo con ricorda un momento fantastico che c'aveva la sorella che si era innamorata di te ti ricordi ma la cosa bella era una cosa di faccio e smorfi però quello ti dica la verità è uno dei programmi più belli che hai fatto eh ti ringrazio che ecco ti ringrazio no quello era veramente un po' vero puro c'è forse che i bambini a quell'età hanno filtri per cui quello che dicono è quello che pensano è l'espressione che parla voi no esatto chi volesse andarsene a vedere credo che sia da qualche parte anche sulla rete l'incontro di Francesco Totti con Niccolò Ricotta ma tu l'hai sentito ho visto no? io l'ho rivisto credo qualche tempo dopo qualche edizione dopo aveva 18 anni e insomma si era un po' rovinata la ricotta però era diciamo è diventato ricotta proprio è diventato ricottore proprio l'unica volta che io ho giocato a pallone con Francesco Totti se ti ricordi era estate era finito il campionato la squadra degli amici tuoi ha giocato contro la squadra degli amici miei che amici poi amici belli amici poi non so come accadde ma a un certo punto noi eravamo in vantaggio Francesco devo dire che da signore fino a quel momento aveva giocato e fa giocare a tutti cioè per diventimento è il problema che come ogni sportivo vero quando è andato sotto io ho cominciato a girare chicchero vabbè diciamo come come tutti del resto no? esatto non ci sta mai a perdere ma io mi ricordo ancora il nostro portiere che era il fio delando buzzanca massimiliano buzzanca te tiravi le punizioni che te chiamavi da solo ma io c'ho paura ma io c'ho paura arrivavano sti cazzo di terra aria se giravano lui se girava se ne vavano faceva questo oddio oddio però fu una bella circostanza a casa come va per te bene dai viviamo alla giornata aspettiamo che tutto si risolva prima possibile perché non ci si fa più ma i ragazzini tu c'hai un figliolo che gioca che giocava almeno me lo ricordo quando anche il mio stava con la Roma lui è il 2005 no? sì il 2005 Cristian lui gioca con la Roma e come la stanno a prendere i ragazzini questa pazzia? guarda Cristian è contentissimo davvero? perché non c'ha scuola vabbè quello lo so gioca tutta il giornale a play e fa sport con me perciò per lui è tombola io sto in palancio Chanel non ce la fa più Chanel è da legare come Adel la stessa cosa sta a schiumare e invece Isabel è ancora capisce o non capisce proprio lei tante cose ma adesso un po' delle domande a cose quante le fa è chiaro perché no piano comincia a rendersi punto è ovvio io non so te ma tu già e tu invece? allora io a parte l'orchite che mi sta vendendo non mi giro con la cariola per portarle a parte questo Davide Davide ma Davide quanto c'ha? Davide è 2004 c'è un anno più di Cristian è 2004 2004 chiaramente adesso non può praticare lui sta facendo gli allievi elite ma non può praticare è tutto bloccato è tutto bloccato per cui gioca molto con la playstation a FIFA 2020 2020 io non so buono però sto cominciando a capire delle cose ad esempio allora i giocatori più forti sono quelli blu guarda poi ci sono i rossi poi dopo mi faccio dare il nickname così mi faccio fare la sfida con Cristian Cristian è un paraculo sì ti fai sfida con Cristian c'è sta ha detto tanto online c'è sta no? c'è tutto no? che cazzo ne so che sta a dire? via qua ma che ti vergogni dai ti vergogna mamma mia non gli va sei vergogna come tuo padre proprio la stessa roba allora ho sentito oggi che continua a stringersi sempre di più la possibilità che ricominci il campionato sì da quello che ho sentito io sembra quasi impossibile che finiscono così sì perché hanno detto dovrebbero cercare un piano B e quale sarebbe questo piano B? c'era anche il piano A eh appunto siamo scantinati cioè io se potessi decidere la metterei qua anche perché la salute penso che viene prima di tutto no? cioè noi se ce ne avevano il calcio ce ne avevano l'ottanta per cento di vita diciamoci la verità potrebbe essere una che posso dire un aiuto in questa circostanza no? il calcio almeno vedi interagire distrazione sì una distrazione però penso che poi alla fine è più giusto non iniziare perché come fai? da dove parti? le basi tutto quanto è veramente difficile ma infatti io ne parlavo l'altro giorno che stavo in diretta con Sky Sport e mi chiedevano se ce ne ho visto è ovvio che per me che guardo sarebbe bello che ricominciasse anche chiaramente sì a me è un po' te svago certo però capisco che hai due tre ore al giorno che ti metti sul divano bravo 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 io ormai sto vedendo tutte le serie possibili immaginabili sono quasi finite mi sempicciano le trame non c'è so capire più più niente se tu mi chiedesti adesso quale film hai visto? non te lo saprei dire ogni sera c'è un film diverso pure a te ti sempicciano i personaggi mi sembro un incoglionino come sempicciano è molto buone partite ma ieri quel cowboy ma perché stanno a sparare un aliero che c'è ci sono picciole le storie e certo noi ci vediamo le ex partite io sto a vedere quello e sì tanto ormai rimandano solo quello ho rivisto pure quel pallonetto che ci hai fatto a noi da fuori aria posso in acciacate ma secondo me sono cose belle è uno tra i gol più belli che hai fatto quello quello se non è il primo è il secondo è vero o no perché tutti continuano a mandare quel tiro al volo con la Sampdoria esatto quel tiro al volo che hai fatto però se posso io da quello che guardavo da uno che guarda quel tiro al volo è figlio del coraggio e della tecnica non c'è più sì anche fortuna l'altro è pensato però quell'altro poi più che altro è pure tutta azione cioè il contrasto al centro campo hai portato palla quelli che tagliavano i difensori che tornavano indietro cioè è stato un meccanismo che poi sono quei secondi un attimo là che pensare quella cosa e farla sembra una cazzata invece è tutt'altro davanti c'hai persone normali in quel contesto e certo mica c'era Massimiliano Buzzanti poi sai quello stadio diventa tutto più diverso certo è vero questo però diciamo che quello per me è il gol più bello uno dice il gol più bello che ricordo è contro il City a Manchester sì ma è diverso spiega è diverso perché uno l'ho fatto d'interno il panoretto quell'altro esterno poi sai il City era una partita di champion del girone non era così importante come in quel momento capito certo poi sai fare gol a San Siro alla scala del calcio è sempre diverso è una grande soddisfazione sì c'era poi tutto stadio in piedi a prodire diciamo quando i diffusi avversari ti applaudono vuol dire che hai fatto qualcosa che va al di là della passione diciamo che poi San Siro non ha visto dei campioni certo tra Iiff e Milan e come appunto appunto adesso adesso a te ricominciando a tornare nel mondo del calcio realmente cos'è che ti piacerebbe fare il mondo del calcio io ho intrapreso questa nuova avventura diciamo di cercare nuovi giovani lo scouting bello diciamo che purtroppo quello che sta andando a Roma non ho potuto fare esprimermi come io avrei voluto purtroppo c'è stato un ostacolo o da parte mia o da parte loro adesso non è che devo fare sì però l'abbiamo seguito tutti bravo e neanche ne voglio più entrare neanche ne voglio più parlare e ho preso questa questa via questo percorso di trovare giovani promesse altri totti altri cannavaro altri buffon certo non sarà semplice però diciamo che l'occhio l'occhio ancora mi è rimasto Italia o mondo? il mondo nel mondo e secondo te un ragazzino nel quale intravedi delle qualità chiaramente chiaramente tecniche no? quali altre qualità andandola a conoscere dovrebbe avere per poter avere la possibilità di emergere effettivamente? le qualità più importanti sono la famiglia cioè quando c'è una famiglia dietro le spalle per me un giovane ha tante più possibilità rispetto ad un altro poi è normale di essere pure bravo le dodici le deve avere c'è fortuna c'è passione determinazione tante cose che ti aiutano ad arrivare a quei livelli poi quando c'è una famiglia che ti segue ti trasmette i valori reali principali hai tante possibilità è vero secondo te che un eccessivo benessere da parte della famiglia stessa può comportare una minor voglia di riscatto e di emergere da parte di un ragazzino ma diciamo che il problema dei bambini in questo momento è la famiglia è quello che ti fanno sentire perché ogni figlio è il più bello del mondo è il più forte del mondo e con la dedizione la chiarezza il rispetto che gli insegni verso altre persone per me quello fa sì che ti può aiutare e ti deve aiutare molti invece nel benessere intendo non nel benessere affettivo ma nel benessere quotidiano forse perdono quella parlo sempre di ragazzini perdono quella rabbia quella voglia di accettare la fatica per potersi riscattare da una situazione meno fortunata guarda che nel calcio se non c'è fatica se non c'è voglia di emergere non puoi fare niente puoi essere bravo come le pare come tutti i lavori poi eh fondamentalmente certo nel calcio devi lasciare tante cose che a 14 15 16 anni purtroppo quei tempi non ritornano no? che ne so la fidanzatina e il motorino e la discoteca cioè tante piccole cose che che un giocatore adesso lo capisci ma quando sei piccolo o ti devono far capire o già sei proprio direzionato su su quell'obiettivo beh guarda io ti dico non puoi fare l'uno e l'altro senza dubbio no no ci vuole una volontà di saper rinunciare anche io mi ricordo quando giocavo io giocavo a livello dilettantistico nella squadra nostra c'era un ragazzo che si chiamava Stefano Medros giocava con il Labbaro di una bravura formidabile lo voleva il Milan lo voleva la Fiorentina e niente però lui diceva vabbè io ho amici miei a Roma c'era la ragazza c'era la tintoria qua vicino dove abito io e niente non ha seguito la strada esatto eppure ti assicuro che era uno che passava il pallone ma sai quanti quanti ce ne stavano bravi che veramente potevano arrivare ad alti livelli ma hanno pensato più a divertirsi che a fare la cosa principale l'obiettivo principale che poi è il sogno di tutti i bambini quello il coronamento e come la risolvi laddove incontrassi un figliolo che secondo te ha queste caratteristiche ma guarda io più che risolvere lo posso direzionare cioè cercare di portarlo su quella strada che ho percorso io poi gli posso insegnare gli posso dire tante piccole spaccettature che poi un professionista conosce però lui deve essere bravo a capire e a venirmi dietro perché non è facile perché poi ci deve stare rinunciare l'armonia ci deve stare tutto quanto capito e poi sai è ovvio come dicevi giustamente te ma come può comprendere qualunque padre a quell'età rinunciare è complicato è complicato è molto complicato è molto complicato e soprattutto non riesci a vedere in proiezione quello a cui stai effettivamente poi rinunciando eh sì intanto quello poi lo percepisci sempre dopo il problema è che dopo dopo è tardi è solo dopo la capocciata che ti accorgi l'ospedale c'è niente da fare mi chiede sbatti la testa una voglia invece di non ti voglio chiedere quali sono i giovani che presumi tra le giovanili perché il lavoro tuo dovrai anche se no mi rufano esatto è bravo esatto bravo stavo a far lunga ma fondamentale il concetto è quello ce ne sono mentre tra quelli ma tra quelli che attualmente sono già in serie A giovani vedi qualcuno che secondo te ha la possibilità di essere un perno importante nel futuro del calcio italiano io personalmente vedo vedo un tal Tonali che a me piace io Tonali farei qualsiasi carta falsa per prenderlo sotto 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 tutti i punti di vista perché per me diventerà centrale più forte uno dei centrali più forti del mondo come ai tempi di Gerard De Rossi Lampard ricordi quei periodi come no davanti alla difesa è un mix trampirlo gattuso cioè c'ha tutto quello che ci può avere un giocatore poi è giovane ho visto due tre volte anche quando andava in accelerazione no ma c'ha un cambio di passo bravo tecnicamente bravo di testa lo vedi sempre lucido partite importanti e partite meno importanti è sempre uguale mi chiedono qua sotto Zaniolo come lo vedi? Zaniolo ho già parlato tanto per me è un giocatore fortissimo un giovane fortissimo ancora devi dimostrare perché stiamo all'inizio dopo quando fai cento partite consecutive ad alti livelli puoi giudicare che giocatore è ha delle rispettive ha dei margini di miglioramento elevatissimi io infatti lo vedevo nella primavera dell'Inter e quando lo hanno dato via per quello scambio con Angolan mi sono permesso mi sono permesso di dire a loro che secondo me si poteva trovare un altro tipo di trattativa però lo sai sono quei momenti sono quelle sensazioni che in quel momento pensi di fare al migliore di modi certo tra giochi così e poi dopo un testo a croce che poi è vero che il ragazzino aveva e ha splendidi numeri ma talvolta è anche l'ambiente che gli fa emergere cioè forse l'ambiente della Roma è stato talmente saporito per lui si è sentito così lusingato di questa scelta che ha dato tutto quello che serviva a dare per portare al meglio le sue qualità infatti come ti ho detto prima ci vuole pure tanta fortuna per chi incontri in quel percorso cioè io mi posso mi reputo no fortunato strafortunato perché nel mio percorso quando ero giovane ho incontrato Mazzone Mazzone mi ha cresciuto in tutto e per tutto sia in campo che fuori e lui in quel contesto ha conosciuto Di Francesco che ci ha sempre creduto perché trovi quell'allenatore che non gli piace oppure punta su tra virgolette gli anziani i veterani e i giovani non hanno prospettiva non hanno possibilità di mettersi in luce no? Sì anche perché se sei giovane degli errori professionistici in campo devi pure farli per poter crescere tanto con i sbagli si impara esatto se no resti sempre lì come un ipotesi ma non succede mai niente il problema è che Roma è una piazza che difficilmente può sbagliare soprattutto quando sei giovane perché sennò poi l'etichetta è quella il problema è questo infatti Roma è una piazza non esigente particolare non esigente ma è come se dimmi se sbaglio io a Roma ci vivo tipo un'altra squadra però poi sono romano quindi Roma ha degli alti e bassi morali talmente rapidi cioè fai un gol e fai un gol e fai un gol fai sotto rete un appoggio di piatto e sei la più grossa pippa che ci stai a fare è difficilissimo per un ragazzino gestire no è impossibile è impossibile veramente apposta in quel contesto di avere delle persone dietro che ti aiutano ti proteggono che ti proteggono è come se ci avessi una protezione capito no no è necessario assolutamente io posso immaginarlo posso immaginare di avere vent'anni ritrovarmi è dura saltato e poi buttato una settimana dopo sei peggio che lo so che potessi che poi Roma che poi Roma ha un grande cuore però allo stesso tempo ha un'ironia così cinica e tagliente che se te lo fa male te fa male e a Roma è dura ti portano le stelle e le stalle con un attimo è un attimo mi ha fatto vedere mia moglie l'altro giorno dopo che è uscito sto decreto delle relazioni stabili mi ha fatto vedere alcune delle cose che escono in rete io non ci va di rete sono troppo anziano per queste cose mi ha fatto vedere questa fotografia di una macchina ferma di notte con una mignota perché è una mignota appoggiata al finestrino che si vede da tutto ortagno le cose c'erano e dopo c'era scritto si ci fermano dire che si fanno a chiedere i bombonieri no vabbè che io voglio dire se ne inventano le tutte esatto questi sono scienziati anche secondo me sì sì scienziati dell'ironia e della leggeria che tu che tu non ci penseresti mai la cosa del genere no 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 ma io perché c'è scritto qua aspetta questo amico mio muoio allora la paletta del vigile che ha fermato la macchina e fa ma io vuoi bene veramente ho questa tasca qui basta no l'arma è così però è verità guarda io mi ricordo quando ero ragazzetto eri proprio tu forse ma anche eri nato negli anni settanta c'era era molto forte il movimento femminista no e fuori da un centro da un centro di riunione di donne che votavano per i loro diritti per l'aborto per il divorzio eccetera eccetera hanno scritto sul muro le femministe lo sperma ci inquina due giorni dopo sotto c'era scritto per cazzo tumbola adesso tu te puoi tu te puoi immaginare non è tanto la scritta in sé ma io mi sono immaginato quello che passava nella macchina così te lo sperma cinque che è veramente parcheggia va al colorificio piallo spray torna scrive che poi te vi approvi da girarti da leggere proprio la frase esatto e tu ragioni ma che cazzo ha scritto che cazzo ha scritto questo sono delle cose che solo a Roma le vedi così a Napoli c'è un altro tipo di umorismo è più filosofo sì è diverso però sono proprio i romani te la ricordi quella di Napoli di Verona Napoli no? quale? troppo ero fatto tanti tanti anni fa il Napoli andò a giocare a calcio a 20 godi sì beh diciamo che iniziano un bel rapporto esatto e i veronesi gli hanno detto di tutto potesse via fuoco e beh subito brucia di tutti una cosa che non finiva alla partita di ritorno i napoletani per protesta non tirarono fuori nessuno striscione tranne uno che uscì l'unico quindi lo vedevi per forza uscì il secondo tempo uscì sto striscione c'era scritto Giulietta in azzoppola così hanno chiuso la battaglia hanno chiuso tutto proprio esatto gli avevano ammazzato il simbolo un'altra filosofia un'altro modo allora andiamo un po' perché tu leggi tutto io ancora ci vedo ancora ci vedo a parte che dovrei mettere gli altri occhiali perché ora sono pure presbite sono presbite miope astigmatico a me mi hanno detto dopo i 40 non ci vedi più mi hanno detto ora sono passati io sono 59 che faccio compri il cane pure il bastone di piede esatto aspetta allora Bruno Garibaldi allora quanto talento ha sprecato Cassano? ha sprecato tanto per me si è espresso al 30% io spero di poterci parlare con lui perché lo conosco guarda che Antonio è è un ragazzo adorabile è il numero uno è una visione di gioco come ce l'hai avuto a te e pochi altri guarda Antonio tecnicamente per me è il giocatore che che mi ha fatto divertire più di tutti perché poi ho sempre detto io e lui giocavamo occhi chiusi veramente quello che abbiamo fatto io e Antonio a Roma difficilmente riusciremo riusciremo a vederlo me lo ricordo però lui è una persona matto tanto non è che tutto di io poi se fai la diretta con lui impazzisci uno devi mettere i sottotitoli tipo Comoda altisocchia se fai la mia letto chiedi a Francesco un giudizio su Riccardo Poletta giocavo con Cristian giocavo con Cristian 2005 a posta non lo conoscevo io non so è un bel giocatore under 15 un bel giocatore è cresciuto tanto ma ancora è giovane cosa pensi di ah vedi questa riguarda l'Inter cosa pensi di Barella Barella è stato uno dei miei pupilli è uno dei giocatori che avrei portato alla Roma prima possibile però purtroppo non ci sono riuscito un consiglio che dovresti che ti chiedono di dare per gli aspiranti osservatori ma aspiranti osservatori io penso in primis che capiscano di calcio beh certo ormai ormai tutti osservatori fanno è complicato dopo dove gira dove gira il soldo ci si fiondano bravo però se se non sai la materia prima l'ABC è inutile che ti putti su su quella cosa no perciò poi l'ABC del calcio vede in voi che lo avete praticato da professionisti che ha dei livelli esagerati quasi vede sicuramente una conoscenza un po' più approfondita di quella che poi è la fatica stessa come intraprendere la carriera come muoversi però una volta mi ricordo che ho fatto una discussione leggermente solo leggermente alterata con Ficchio Desisti in una di queste partite di beneficenza stavo a dire delle cose e Ficchio dice sì vabbè però che vuoi sapere io ho detto mister mi perdoni io non ho giocato a calcio come lei perché non avevo la sua qualità tecnica e la sua qualità fisica per cui ho giocato a calcio come l'80% degli italiani per divertimento per divertimento dilettantissimo quello che ti pare però capire quello che succede all'interno di un rettangolo lo capivo pure io io lo so dove dovrei bannare pallone e che non ci riesco a farlo il problema la testa pensa la cosa e i piedi ti interpretano con difficoltà giustamente e se te vedo ti infilo ma te sei capace a filare col pensiero ci riesco quindi voglio dire il calcio uno lo capisce tu lo sapevi caro mister mette pure in pratica ma non è che io non capisco un cazzo che sta a succedere anche perché lo sai meglio di me che al di fuori del rettangolo del gioco sono tutti allenatori tutti giocatori tutti i fenomeni tutti sanno fa tutto che poi quando sta là dentro veramente è totalmente diverso da quello che pensi fuori ma che scherzi perché fuori c'è tempo per pensare per dire invece lì è l'attimo guarda Francesco io mi ricordo che mi ha chiamato tanti anni fa Giuseppe Bergomi e mi ha detto dice Paolo viene a fare per favore la telecronaca della mia partita d'addio al calcio a San Siro dico zio potrei ma chi è che gioca e beh guarda c'è la squadra attuale quella che entra in campo c'era Ronaldo eccetera eccetera contro quelli che hanno giocato con me giocava Andy Breme Rummenig Berti Ferri e venti glorie diciamo esatto esatto gli ho detto guarda zio io vengo ma non vengo a fare telecronaca io voglio giocare dice ma a te non c'entri niente e ho capito dico però voglio giocare ho giocato Francesco io ho toccato un pallone quando l'arbre aveva fischiato una punizione l'ho preso con le mani io vedevo come mulinavano il pallone non solo quelli che erano ancora in campo ma quelli che hanno giocato prima mi ricordo Andy Breme una palla era davanti a me una palla che gli arrivava da una ventina di metri la vista da quel momento non l'ha più guardata però l'ha stoppata l'ha messa a terra e ha fatto un lancio di 30 metri sul fetta un compagno dall'altra parte che se io quel pallone non lo fermavo in qualunque modo poi lo guardavo bene cercavo di capire che cazzo se dovevo fare eccetera eccetera nel frattempo avevano fregata a macchina avevano rubato il portafoglio solo sul posto riesci a capire la diversità poi no? ma senza dubbio ogni professionismo ma certo è come se mi mettersi vicino con te con il microfono dato parto è ovvio sono cose differenze ognuno è il suo ma è giusto a me ma infatti se vede ed è giusto così no? senti questa quella stessa partita ieri mi ha telefonato Nicola Berti ti è rimasto a mente? no è l'unica che ho giocato con quelli che giocano a pallone io mi è rimasto a mente allora inizia la partita Ronaldo prende il primo pallone Riccardo Ferri gli dà una saracca da dietro che leva Ronny si alza e fa Riccardo perché fai questo a me? io devo giocare domenica io per salutare per salutare Zio Bergamo non mi fare male gioca gioca però questo è il calcio che si faceva arriva un altro pallone Nicola Berti gli dà una saracca del vomito sullo sterno si piegano due perché hai fatto questo a me? perché hai fatto questo a me? eh perché noi quando si gioca era quella palla lì che ti ho detto io c'era la palla a mano Ronny mi fa Paolo dammo il pallone Ronny si era rotti i coglioni non ti credo dammo il pallone gli ho fatto tic quindi assist ho fatto a chi poi? eh tic ha preso il pallone al centrocampo non ha sartato i cinque è arrivato davanti al portiere ha messo qualcuno per terra l'ha messa dentro è andato da Berti e gli ha fatto gioca gioca io mi vado a fare la doccia è stato lui mi serve il pazzo e se ne vado è fantastico perché a parte lui che era un'altra categoria vabbè lui sì non è paragonabile una voglia di quelli che hanno giocato di voler dimostrare di essere ancora tali certe volte che è pazzesca io vedo delle partite io ho visto Nedved in una partita di beneficenza dare un calcio a chi era il ragazzino noi abbiamo fatto ultimamente un anno fa a Torino abbiamo giocato c'era Nedved e chissà ma tu ti vedi come entrava un assassino eh lo so un assassino non si fermano mai poi cioè per loro veramente è la partita della vita lo so ma è incredibile ecco perché c'è un po' quello che succede a noi vecchi quando facciamo i tornei ucchi io faccio prima a Pezzana è la stessa è come se uno ti dovesse dimostrare di non poter essere stato ciò che sarebbe stato finché non sia stato manchiodata la malattia come Alberto Sordi non è stata la colpa mia esatto non è stata che si era per me che mi andava così male mi hanno messo il bastone fra le ruote esatto 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 mi hanno voluto smette esatto e quindi ora ci si diverte a fare l'osservatore è proprio una cosa bella perché sì e poi a fine rimani nel mondo del calcio rimani nel mondo del calcio vai a vedere le partite vai a vedere quello che realmente ti piace più di tutti certo innanzitutto viaggi vedi rimani nel tuo ambiente e poi diventi la potenziale chiave della gioia di qualcuno del futuro di qualcuno me lo spero con tutto il cuore guarda me lo immagino me lo immagino perché è una cosa bellissima anche a me piacerebbe ne avessi le capacità di poter leggere in quel modo come puoi leggerlo te o professionisti come te però far crescere i bambini per questa opportunità è bellissimo tu in altro mondo vuoi fare lo stesso sì sì ognuno fa lo stesso quanti vorrebbero essere come te o quello che ha fatto te scrivono in un periodo di arresti domiciliari sono fortunato anche domani sono in ospedale grande diretta saluta il capitano è ovvio ecco qua un saluto per te questo che è scritto in arabo ma che cazzo lo sai leggere qui mandano un messaggio scritto non te seguo eh? come? Anna Chiara dai e come faccio? sapendo che sei internazionale eh ho capito però l'arabo non si allargiamo Anna Chiara che è una signora che lavora con me da una vita sì è sposata ma divorzierebbe pure se divorziassi pure te che verrebbe a darti la caccia te prego fagli un saluto di specifio Anna Chiara Anna Chiara ti mando un bacione una broccione e spero di vederti presto dai appena potremo riuscire ti verrò a trovare così ci abbracciamo e ci diamo un bel bacetto sulla guancia senza divorziare va bene ma come ci lavoro io che a questa gli è venuto un infarto davvero? ma è bruciato una colonna mo ce l'ho preso la coscienza allora vediamo un po' se c'è qualche altra cosa che vogliono sapere da te chi scrive uno Cristian Perronace Laziale e Juventino mazza c'è a tutte queste mamma mia mica male ho certo che però voglio dire adesso pure da romanista e da romano il campionato della Lazio è stato un campionato che no loro stanno facendo un campionato che nessuno si sarebbe mai aspettato vero e un plauso sia a Inzaghi che a tutta la squadra e anche perché bisogna essere ma io la squadra senza dubbio bisogna essere con obiettivi nel calcio no la sportività penso viene prima di tutto senza dubbio guarda la squadra sta rispondendo perfettamente il tecnico è stato sicuramente bravo perché devo dire che Simone ha messo in piedi un gioco una volontà di rubare palla con ripartenze rapide vista le caratteristiche dei suoi giocatori si può permettere questo tipo di gioco ed è efficacissimo gli è esploso Luiz Alberto in una maniera impressionante c'ha qui tre quattro giocatori che in questo momento gli stanno facendo la differenza più e se posso permettermi farei tanto di cappello a Igli Tare ma Tare è un grande direttore sportivo ma veramente lui capisce il calcio è un intenditore ti manca la curva sud mi manca fino a un certo punto perché per me quella la curva rimarrà sempre con me ovunque vado perciò non mi mancherà mai che vuol dire Paolo ma una barzelletta di Francesco perché una volta lui mi ha contato faceva i video con le barzellette ah dice che una volta facevi le barzellette ma mica l'ho fatta io ma che cazzo mi ha contato a fare barzellette invece manca solo quello lo so Totti vogliamo una barzelletta e faccia sentire questa cazzo è barzelletta e che cazzo è barzelletta compraste un libro così è regolo preciso io c'è non solo una che racconto sempre ai miei figli e si rivertono come matti mi vergogno solo a prima quanto ci ha messo a raccontarla no è che mi vergogno perché è proprio una cazzata però i ragazzini si divertono tante e cazzate sulle cose più simpatiche allora Mago Baruc indovina tutto prevede tutto sa sempre tutto Klinglom chi è? Vaffa questa è è vero vabbè vediamo Salah left left for Liverpool mi ha detto che Salah vi ha abbandonato per andare a Liverpool no non ci ha abbandonato Salah la società in quel momento stava diciamo in crisi tra parentesi doveva vendere qualche giocatore in quel momento Salah era quello che aveva più mercato perciò non è stato lui andare via precisiamone le cose e poi tante cose la gente parla straparla ma non sanno la realtà qual è certo il problema dello stadio credi che a Roma si risolverà per me sarà molto difficile ci vuole ci vuole tempo o cambiano location perché qua a Tordivalle la vedo molto molto complicata complicata ma complicata per necessità di far contente troppe persone o per problemi oggettivi per me tutte e due entrambi a Roma è sempre non cerchiamo di mettere il dito una piaga no no per amor del Dio chi ci vuole mettere il dito sino manca solo che non andate che ne pensi di Goicocea ancora con Goicocea ancora sta sta vedesca adesso che ne pensi di George Best per forza allora è un po' se è così tutti mio te amo però a Santo Stefano 2001 tennis padel oh questa è un'altra cosa io sempre con la mia modestia con la mia età con tutti i picci fisici che stanno a venire fuori a uno ai posti a Mazzalli mi diverto a giocare a padel ma ho visto giocare a padel questo è forte vero no giochicchio mi diverto mi piace dopo il calcio è lo sport che mi piace di più prima mi piace al tennis sai che c'hai che che sei come te lo dico perché conosco lui che sei come Davide cioè a padel così come a calcio tu hai capito Davide Michio tu hai capito qual è il meccanismo e non è che giochi di potenza come gioca giochi di capoccia bravo giochi di capoccia lui fa la stessa cosa lui gioca di capoccia lui ad esempio sa che io ho il ginocchio che non mi via e il sinistro è il destro è il destro perciò lui lui mi fa le pallette corte fisse che a paddola è difficile e io e io con sta gamba ti va a fare tutti vai e torna che fio da una ballerina con tutto il rispetto per mamma allora vediamo se no non ero finostri esatto esatto ha chiedono come sta Nicolò Zaniolo spero che stia recuperando chiaramente si sta recuperando anche perché lui ha fatto un po' di dirette ha detto che il ginocchio risponde bene però non bisogna affrettare i tempi in queste circostanze uno dice che c'è poco da far fin quando c'è pallotta vabbè poi ognuno ha i suoi pensieri e le sue idee c'è chi piace e chi non piace poi lì c'è questione sono tutti sono tutti buoni che i sordi dell'art come si dice a Roma esatto a Roma si dice un'altra cosa ci siamo a chi insigne è solo di Napoli e chi ti ha detto niente e lì rimane penso è mai stato vicino a lasciare sei mai stato vicino a lasciare la Roma beh ce l'hai detto io sì nel 2004 sì stavo andando chi ti aveva cercato Real Madrid difficile da dire di no è stato abbastanza complicato però poi con la famiglia gli amici mi hanno diciamo intortato e ho fatto la scelta più giusta poi alla fine qui c'è ci sono quelli per i quali mi adopero io costantemente che sono quelli di adotta un angelo sì è una piccola è una piccola onlus con il dottor Renato Berardini del Bambino Gesù di Roma che si occupa di dare sostegno gratuito sanitario infermieristico domiciliare alle famiglie che hanno dei bambini con delle difficoltà inimmaginabili sono bambini che devono essere nutriti artificialmente respirano artificialmente evacuano artificialmente mamma mia ecco appunto e già che queste famiglie sarebbero costrette a tenere e sono costrette a tenere questi bambini in gestione ospedaliera spesso lontanissimo dalla loro casa le famiglie stesse si spaccano allora noi con questa onlus prepariamo degli infermieri li paghiamo affinché siano H24 con queste famiglie per gestione step a disposizione esatto loro mi dicono perché non facciamo una partita di beneficenza con Francesco e vabbè quando sarà chiedo che se ci sarà possibilità ma che non lo so ma so sicuro esatto c'è manco bisogno che te lo chiedo Francesco giocatore italiano più forte di sempre grazie con olis al virus centro io col virus non mi diranno me non sapete che è colpa mia ma dove va ma attacchi pure a me allora a Madrid dicevi il pallone d'oro comprati la Roma Francesco ecco sei usati però buono e un po' troppo avresti vinto Champions e pallone d'oro eccetera eccetera saluta mamma Fiorella volentieri c'è mamma Fiorella come lo vedi il capitano davanti mi sembra mi sembra che anche Milan ti voleva sì c'è stato un momento pure che Galliani o Berlusconi avrebbero fatto carte false per portarmi a Milano però come ho sempre detto per l'usconi ma non era per giocare però non era per quello non era per quello allora lo fate tu lo fai il fantacalcio chiedo no no mio figlio non ci capisco niente pure Chris lo fa no io l'ho fatto una volta con Davide e dice che ho sbagliato tutto perché me sono comprato solo i giocatori dell'Inter vabbè dipende che altro non l'hai comprato però eh dipende che altro hai comprato perché quando c'era la mia c'era certo era come dentro allo spogliatoio c'era un tuo ex compagno che mi ha fatto morire dalle risate perché uno ha detto uno ha detto sì ma lo sai che io sono stato con una Miss Italia che culo ma di che anno lo sai gli spogliatoi sono un posto fantastico mamma mia esce quello credo che ti manca un po' l'unica cosa che mi manca di carità per noi era era tutto era divertimento incazzatura l'aiutarci lo scherzare cioè là dentro in quel rettangolo era c'era di tutto di tutto e di più sentivi delle cose uscire da alcune bocche impensabili proprio però era posso immaginarlo io l'ho scritto nel libro che ho scritto io perché parlavo da solo parlo proprio di questo e parlo anche dello sport di squadra io sono convinto che i bambini che i ragazzi nello sport di squadra apprendano un valore fondamentale che è quello che è quello della cooperazione certo è basilare tu sei di aiuto agli altri e gli altri saranno di aiuto a te se poi crescendo riuscissero a trasferire questa cosa fuori nella società probabilmente possiamo sperare qualcosa di meglio eh non sarebbe male sarebbe una bella una bella possibilità mi chiedono come ho reagito quando Francesca ha fatto il gol di cucchiaio contro l'Inter eh mi sono partiti qualche qualche sacramento qualche assurdo ma rubetto e poi in 3-4 secondi è rimasto lì nell'area di San Sigo ma lì morti ma proprio qua sì esatto ma proprio qua divenito tutti tutti i posti che ci stanno Romagnoli credi possa diventare un Nesta o un Cannavaro eh diciamo che è un è un buon giocatore poi sai io ci siamo non dico che ho cresciuto però era giovane giocava in prima vera con noi con la Roma poi è stato parecchio anni con la prima squadra poi diventavo capivano del Milan perciò vuol dire che ha buone prospettive di diventare uno di quei giocatori Francesca manchi tanto ma se va via pallotta tornereste a Trigoria? ma nella vita mai dire mai bravo chiede sempre una via adesso vede una bella partita di Paddle quando la facciamo e quando saranno eh quando possiamo poi perché lui gioca bene ma perché si deve familiare con me eh ma giochi bene io sono andato a fare per il derby quello di Milano che ho portato su un mio figlio a vederlo in termina quello che è il primo tempo perché abbiamo vinto 4 a 2 sono andato a fare questo torneo di Paddle con ex giocatori ex giocatori ma ha detto ti piace ho vinto il torneo io ho giocato con una signora che era un ex tennista professionista da vedere che era ma giocano bene tutti l'unico che era in uno stato di confusione totale era Mauro Tassotti no Mauro Tassotti non sapeva manco dove si trovava davvero Mauro cioè vuol dire neanche a racchiettoni sulla spiaggia non mi ha giocato no era era colto come da una sorta di labirintite si mi faceva una tenerezza e poi credo che invece allora nassene per cui era perso proprio perso 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 o era perso o era drogato tantissimo stava comunque poi quel gioco è impossibile che ti perdi chi è quello con cui ti sei incazzato di più chiede Daniele Cappuccini incazzato in che senso di squadra o avversario dipende che ne so che voleva di Cappuccini l'avversario mi ricordo mi incazzavo mi incazzavo più quando perdevo le partite che è andato su un singolo giocatore beh quella volta me lo ricordo proprio contro l'Inter con Mauro con Mario con Balotelli perché che è successo qualcosa ammazza gli ha tirato un carcione io che ti è partito non eri te mi sa è stato io non lo so o forse è stato lui che si è buttato inghietto bravo bravo si è buttato inghietto per Piercar ma certe volte io lo capisco certe volte ti la levano io ti ho detto bene che non ti ho preso se ti diamo bene lo sai da quanto vi conoscete con Francesco da parecchio tempo ma non è che ci frequentiamo no non ci siamo mai frequentati all'inizio sì però diciamo è minimo vent'anni sì sì è vero qual è il difensore più forte che hai mai affrontato per me Alessandro sì poi che dicevano qui cosa pensi di Ibrahimovic Ibrahimovic è uno dei quei giocatori che a me fa impazzire per come gioca poi vuol sempre vincere perciò c'è una mentalità diversa da tanti altri giocatori e poi è un fenomeno allora noi il resto stiamo per chiudere a chi ama lo sport e lo consiglio pure a te se non l'hai visto su Netflix sì c'è la prima stagione di The Last Dance ah sì The Last Dance la storia dei Chicago è bellissimo l'ho iniziato l'altro giorno ah ma hai iniziato allora non ti dico niente no non ti dico niente la storia poi è quella non è che la storia non la conosci ma c'è che c'è scritto Sabrina Sabrina qualcosa sulle dichiarazioni di Osvaldo che ha detto che è matto che ti devo dire si ha dichiarato si ha fatto l'autocertificazione ha detto sono matto no gli hanno chiesto alcune cose e lui è andato un po' su specifica ha presa un po' la larga capito che devo dire non ti so di niente non posso di niente tu dici niente ha detto tutto lui io posso di niente tempo di niente io non lo so che stavo a parlare è finito il film vogliono saluti anche Florenzi lo sento spesso lo saluto Alessandro sta a Valencia mangia la paella la valentiana la mangia la mangia ha detto un posto magnifico si è bella Valencia è bellissima ok io credo che vabbè insomma ci siamo detti un po' dei cosette sono contento per tutti quelli che hanno potuto godere della tua presenza com'è? della nostra presenza ah poi c'è Alexia che è l'insegnante di nostra figlia Silvia che pure lei essendo credo profondamente innamorata del campione dell'uomo eccetera c'è mazza vuole tanto tanto che la saluti Alexia ciao Alexia ascolta queste parole un bacione grande ci vediamo speriamo presto e speriamo presto ti abbraccio Francesco a te a tutti i ragazzi grazie saluto a tutti a casa state bene figlioli ciao a tutti ciao ciao ok ringrazio tutti quanti per averci seguito è stata una gioia ed un piacere vi rimando con la Sdl TV ormai sembro Nicoletta Orsumando dell'Sdl TV all'appuntamento di domani alle ore alle ore 18 e 30 sempre su questa rete si ragionerà insieme al professor Roy De Vita al professor Pier Francesco Parra e domani potete chiedere tutto quello che ritenete più opportuno chiedere non solamente sulla situazione attuale ma sui decreti attuali e tutte le cose che potrebbero farvi migliorare la visione di quello che sta succedendo a tutti quanti noi andate a leggere l'ultimo post del professor Roy De Vita e ora i programmi della sera l'oroscopo l'oroscopo devo fare ciao a tutti tifo Inter perché mio papà mi ha cresciuto così la domanda la fanno sempre perché tifo Inter perché mio papà nacque a Milano si trasferì a Roma durante la guerra e io sono cresciuto con mio papà che tifava Inter era l'Inter degli anni 60 e io non solo ho tifato Inter perché era l'Inter ma tifavo l'Inter perché era la squadra di mio papà e quindi una volta che da bambino intraprendi una strada e la segui poi te la porti tutta la vita seguire l'Inter per me è come avere ancora accanto mio papà vi saluto a tutti ciao grazie davvero